La democrazia diretta è una magnifica invenzione, ma quando non è ben regolata produce solo caos. Quello che stiamo vedendo in queste ore nel Movimento 5 Stelle è del surreale. La corsa per la candidatura alla Premiership sta diventando una lotteria incredibile. Doveva essersi una competizione seria, una competizione al rialzo, anche dal punto di vista del profilo dei candidati, tra Di Maio ed altri che nel Movimento si sarebbero dovuti far avanti. E invece siamo alla Bulgaria, siamo a Croda, non sappiamo come definire. C'è un solo unico candidato, ed è Luigi Di Maio. Tutti gli altri sono spariti, nessuno si fa avanti. E quindi la scadenza è già arrivata, alle 12 è tutto finito. E si va quindi verso una sorta di primarie false, bugiarde. Quando ti affidi al click o al sacro blog, ecco che cosa succede. Si aspetta che arrivi Grillo, che come al solito, come il santone di una setta, risolve tutti i problemi, il Mr. Wolf del Movimento 5 Stelle. Vedremo se porterà altri candidati all'altezza di competere con Luigi Di Maio. Ma quel che è certo, quel che si può dire fin da ora, è che uno degli aspetti più critici del Movimento 5 Stelle che si candida a governare il Paese, oltre alla piattaforma programmatica che continua ad essere evanescente, fino a risultare quasi imbarazzante, è la democrazia interna. Quando c'è il sacro blog, quando c'è una società privata come la Casaleggio e Associati, che decide tutto e fa il bello e il cattivo tempo, beh, insomma, la democrazia non fa grandi passi avanti. Se persino il Financial Times dedica una pagina intera al Movimento 5 Stelle, prendendolo sul serio, perché va preso sul serio per la portata politica che rappresenta, ma ne mette in evidenza tutta la complessità, le contraddizioni sotto il profilo del funzionamento e appunto dei meccanismi di democrazia interna, e beh, qualche cosa deve pur significare. E allora, grillo o non grillo, casaleggio o non casaleggio, questa consultazione per la candidatura a Premier doveva essere un altro dei test di maturità, delle prove di maturità del Movimento, e rischia ancora una volta di essere un altro fallimento. Con Di Maio che diventa una sorta di cettola qualunque per l'improvvisazione con la quale si arriva alla sua incoronazione nei prossimi giorni a Rimini, oppure una sorta di Ceausescu, un leader indiscusso, una sorta di dittatore al quale il garante Beppe Grillo trasmette per via dinastica, o non si sa meglio per quale via, tutto il potere. Ecco, la democrazia non funziona così.